Leo, mi dici come continua la storia del topodopo e del gatto panciotto? Per favore! Il gatto panciotto era cattivissimo e voleva togliere al topodopo il superpotere del ritardo. E come faceva? Usò un orologio magico che portava indietro il tempo di una, due o anche cinquemila ore. Così il topodopo cominciò ad arrivare in orario. Il gatto rideva malefico e il topodopo piangeva disperato. No! Finché una sera il topodopo non andò dal gatto panciotto che dormiva, il topodopo gli rubò l'orologio magico per distruggerlo.